Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 è chiuso per lavori il tratto compreso tra Aglio e Roncopilaccio in direzione nord. Per la mobilità rallentamenti verso Bologna tra Calenzano e B1 variante e in carreggiato opposta rallentamenti ancora una volta per traffico tra Barberino e Calenzano. Possibili disagi inoltre nel nodo fiorentino della Firenze mare e in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario a causa delle condizioni meteo con forti precipitazioni a carattere temporalesco. Il treno 1911 Siena-Grosseto sta viaggiando con 26 minuti di ritardo. Per condizioni meteo avverse inoltre è cancellato il traghetto Piombino-Cavo-Porto-Ferraio delle 8.40. Muoversi in Toscana-Infio a servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!